Musica Bella a tutti ragazzi sono il Goff Benvenuti o bentornati su Rocket League Eccoci con il secondo episodio Con l'aggiornamento delle Otwis Sono sceso in Stella cadente di visione 2 Ok dai raga, semiprofessionista E master, i semiprofessionisti e i professionisti Su questo gioco a questi rivali fanno paura Perché vuol dire che è loro a seconda account E quindi magari sono arrivati fino in Grand Champions Poi non salgono più perché Dopo un po' non sali più a Grand Champions Credo sia giusto massimo E vogliono riniziar tutto da capo, non so perché E quindi Fanno paura Dobbiamo di Giocarla al massimo delle nostre forze Allora la devo vincere perché Se no mi sa che scendo in divisione 1 perché L'ultima volta che ho giocato Mi ricordo di averla persa e quindi Non so che cavolo di giornata era Oh giornata grigissima Non ne dicevo una Poi la palla rimbalza così 1-0 Allora vi invito intanto a leggere la descrizione Se vi piace il video lasciate un bel like E un commento E vabbè anche condividerlo se volete con i vostri amici Così mi aiutate diciamo nel processo di crescita Iscrivendovi al canale anche giustamente se non siete iscritti Poi voglio iniziare della Stofas come avevo detto Però non so quando la inizierò a pubblicare Magari la inizio a registrare Ma non so quando inizierò a pubblicare Perché voglio aspettare Non voglio iniziare subito con 5 video O cose così a settimana Ma iniziare un po' per volta Per vedere se intanto piacciono i miei contenuti alla gente E poi se piacciono così Andiamo con le serie belle potenti Questo non la prende Però non entra È una parata Ok 2 a 0 Basta di reskip per 2 secondi di filmato Madonna Quello lì è ansioso Prenditi dei tranquillanti Come prima partita della giornata Sta andando muy bien Ecco Tiro Tiro Schifosissimo Ah volevo dirvi Delle hotwits Fatemi sapere cosa ne pensate Nei commenti E se avete comprato qualche macchina Se avete comprato quella lunga O l'altra Che sembra Non mi ricordo il nome Attenzione Non ho il turbo Meno male che ha volato anche lui Uuuu Meno male che ha volato Madonna l'italiano Te l'ho lasciata Capo Io stavo solo andando a prendere il turbo Mentre che ve lo dà fastidio Cosa credo Non pensavo la toccasse No Bravo Non so cosa fare Sono in mezzo Delle pallonate Meno male che anche l'altra ha saltato Adesso Ok No mate No mate Eh bel tiro Fa niente 2 a 1 L'importante è che rimaniamo in vantaggio Ok come semiprofessionista Ah non sembra Un gran che Si Ha fatto un'azione bella E basta Adesso vediamo Le fa 200 gol Non parlo più Io di solito Quando dico Abbiamo vinto la partita La partita non è ancora finita Anche se siamo 4 a 0 Gli avversari rimontano E si rischia sempre di perdere Una cosa incredibile Sto lottando con il mio turbo Ho provato a allontanare Ma non l'ho preso 10 secondi raga 10 secondi Non facciamo una cappellata finale Oh 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 Non è finita Perché parlo Avete visto raga È finita Io ho detto E come volevasi dimostrare Due pari Ok Time 8 Allora non posso mica portarvi sempre vittoria Ovviamente Però Questa da 2 a 0 Bello C'è raga 3 a 2 3 gol miei In pratica questa partita l'ho fatta io Però io mi trovo veramente bene con It's time to win Quindi Mi piace giocare insieme a lui Molte volte è lui che gioca Molte volte sono io che gioco Molte volte giochiamo assieme Nel senso Adesso tipo gioco solo io Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video raga E scusate ancora se sono sceso Ma ho incontrato un sacco di compagni Nabi Ci vediamo sul prossimo video raga Ciao a tutti